L'Ormeasco è comunque un clone di dolcetto, un clone di dolcetto che resiste a altitudini maggiori rispetto al dolcetto piemontese. È un vino che dà il meglio di sé con uno scontro di aria, lo scontro dell'aria del mare che arriva proprio incanalandosi lungo la valle di Albenga e la valle Arroscia e si scontra con l'aria della montagna perché a 50 chilometri dal mare abbiamo 2.200 metri di altitudine e quindi abbiamo queste forti escursioni termiche, quest'area salmastra calda del mare, quest'area fredda della montagna che arriva dal Piemonte, dalla Francia, che conferisce al vino un'aromaticità più accentuata e un'acidità molto pronunciata. Sicuramente è un vino che si presta molto con la cucina ligure e soprattutto con piatti anche a base di pesce. Per esempio nell'antichità sotto i portici di Pieve di Teco, mi piace ricordare, si mangiava lo stoccafisso, quello proprio con il pomodoro, le olive eccetera, con l'ormeasco proprio e non con un vino bianco.